Un punto a favore dei comuni, soprattutto di Ribera, l'unico della provincia di Agrigento assieme a Menfi, ad aver inserito l'autorità giudiziaria nell'intricata vicenda legata alla redazione e approvazione del cosiddetto piano paesaggistico degli ambiti ricadenti nella provincia. Il Tar di Palermo infatti ha accolto la richiesta cautelare avanzata dal sindaco Carmelo Pace che ha affidato il patrocinio all'avvocato Girolamo Rubino. L'adozione del piano paesaggistico è stato fortemente criticato dagli ordini professionali tanto da costituirsi in un comitato e soprattutto dai comuni. Adesso è il primo tempo di una lunga partita giudiziaria conclusa con l'accoglimento del ricorso davanti al Tar Sicilia contro l'assessorato regionale dei beni culturali e la soprintendenza di Agrigento. I giudici amministrativi hanno in pratica sospeso il decreto assessoriale con il quale veniva adottato il piano. In particolare l'avvocato Rubino ha censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili. Quello della mancata concentrazione soluzionale con il sistema delle autonomie locali, del mancato esame, delle osservazioni presentate dall'Ufficio Tecnico Comunale e della mancanza di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Alla fine la decisione dei giudici della prima sezione, presidente Caterina Crescenti, che ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal legale, fissando la trattazione nel merito del ricorso per il 25 giugno 2015. Come detto, un piano che non piace a nessuno, in particolare al comitato interprofessionale composto dai rappresentanti degli ordini, agronomi, architetti, geometri, geologi, ingegneri e periti agrari, che nei mesi scorsi hanno presentato al direttore del Dipartimento Beni Culturali, l'agrigentino Salvatore Giglione, un corposo faldone contenente una serie di osservazioni critiche e sollecitando l'abrogazione del piano.